Da mio punto di vista, comunque, ad oggi esistono alcuni punti fermi. Uno, secondo il vigente ordinamento di Stato civile, gli atti di nascita si formano e si iscrivono nei relativi registri, indicando quali genitori, la madre partoriente e il padre biologico. Punto. Tale principio viene anche riaffermato con riferimento alla notazione nell'atto di nascita del riconoscimento di filiazione, che richiede la preventiva verifica in capo al soggetto dichiarante della condizione di paternità o maternità. Due, l'articolo 12 della legge 40 del 2004 considera le pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani e di bambini quali fattispeci delittuosi. Sono dei reati. Finché campo e finché sono membro di questo Governo, l'utero in affitto e i bambini in vendita non esisteranno in Italia come pratica che lede il diritto del bambino, della mamma e del papà. Quindi attendiamo la sentenza dell'avvocatura di Stato. Nell'interesse collettivo, in particolare dei bambini, il diritto ad avere una mamma e un papà è un diritto a cui io e questo Governo daremo fiato, voce e difesa in ogni sede possibile e immaginabile.